Il 50% delle persone intervistate affermano di non essere soddisfatti delle prospettive lavorative che vengono offerte dalla città. Il 50% vuol dire che più di una persona su due vorrebbe andarsene da Genova. Abbiamo organizzato questo presidio perché qualche settimana fa il MUMA ha realizzato un bando richiedendo la presenza di una persona altamente qualificata che lavorasse gratuitamente per sei mesi all'interno del museo. Questo è inaccettabile e come abbiamo detto Genova è una città che offre moltissimi gattivi lavori ai giovani. Vorremmo che la situazione cambiasse radicalmente. Ci sono le possibilità. Pochi mesi fa abbiamo pubblicato un dossier proprio su questo argomento, su questo tema, che come dicevamo prima non fa altro che dimostrare, che avallare la tesi per cui Genova non sia una città ospitale, sia una città affatto ospitale per persone giovani. Non a caso sono molto di più le persone che vanno via quando ne hanno le possibilità piuttosto a quelle che arrivano al contrario di grandi città universitarie come Milano, Bologna, in cui molte persone se ne vanno ma altrettante persone ritornano perché hanno un'offerta molto migliore per i giovani. Questo a Genova appunto non accade. Grazie a tutti.